A Roma, da Centro Musicale, abbiamo ascoltato un impianto minimale, ma non troppo, con prodotti Naime e Harbet dal rapporto qualità-prezzo straordinario. Ce ne parla Luca Di Brigida, responsabile del reparto audio-video del punto vendita romano. Allora, qui come puoi vedere abbiamo la Harbet HL5, nella versione XD, perciò stiamo parlando dell'Extended Edition, cioè stiamo parlando della nuovissima variante in tiratura limitata della mitica HL5. Dietro di me abbiamo il nuovo Naime Atom HDMI, perciò abbiamo questo OnlyOne compatto 40W in classe AB, l'ultimo gioiello di casa Naime, uno streaming capace di leggere qualsiasi tipo di formato, con porte ottiche, quassiale, analogica e con l'uscita HDMI per poter collegare il prodotto al nostro TV, utilizzare la modalità ARC. Altra cosa importante, possiamo naturalmente controllare nella modalità server il nostro computer, il nostro server di rete, da dove andare a pescare tutta la nostra musica liquida preferita. Ora vi lascio al suono dei due prodotti. Grazie a tutti.